...ci abbia dato quegli elementi in più per riflettere sorridendo. Guardate, noi questa sera, con questa iniziativa molto articolata tra interventi politici e interventi come quello di Gostaria, abbiamo voluto portare avanti un ragionamento, un discorso, un confronto con i cittadini, sollecitando sempre la riflessione, un ragionamento sulla nostra città, sul modo di essere di questa nostra città. Guardate, io dico sempre, è importante camminare con gli occhi aperti, è importante guardarsi intorno, è importante capire dove siamo, come siamo e perché siamo in queste condizioni. E allora guardate, purtroppo dobbiamo partire da un dato, il medico, il medico bravo, la prima cosa che deve fare è individuare la malattia. Anche se questa è un cancro, il medico bravo la deve individuare, anzi più presto fa a individuarla questa malattia, più presto è possibile tentare una terapia idonea per combattere il male. Allora il punto di fondo che noi stiamo cercando di sollecitare in questa nostra città, anche attraverso la battaglia elettorale, il confronto elettorale con i cittadini, è stato questo. Guardate, cari concittadine e concittadini di Casoria, dobbiamo capire che purtroppo Casoria è una città malata, è una città indivibile, basta guardarsi intorno. È una città che è stata distrutta da 30 anni e più di una feroce speculazione di inizia che non ha creato momenti di vivibilità. A Casoria non ci sono aree verdi, a Casoria non ci sono spazi per i bambini. Io credo che le mamme, le nonne che accompagnano i bambini per strada, voglio capire, ma dove possono portarli? Camminando per strada soltanto tra le macchine, l'inquinamento, i pericoli, dove gli anziani possono trascorrere serenamente un momento di riposo dopo tanti anni di lavoro, quando nella nostra città non vi sono spazi di socializzazione, di possibilità di stare insieme serenamente. A Casoria non ce lo dobbiamo scordare, purtroppo, una città di 80 mila abitanti non c'è un cinema, non c'è un teatro, c'è uno stadio comunale molto bello da oltre 15 anni chiuso, c'è un balanzetto dello sport costruito con i soldi dei cittadini che è dato in gestione a privati. E i ragazzi dove stanno? Dove possono giocare i ragazzi? Quali sono gli spazi perché i nostri figli, i giovani possano avere possibilità di incontrarsi, socializzare, fare attività culturali, attività sportive? Quali sono, voglio dire, le politiche necessarie che un comune deve mettere in campo perché i cittadini, dai bambini fino agli anziani, possano vivere bene. Purtroppo tutto questo non c'è, anzi c'è una cosa ancora più grave, che quando poi muori c'è il caro estinto. Anche quando muori, anche lì c'è la speculazione, anche lì purtroppo la persona, il cittadino è mortificato. Allora, se questo è il quadro, la malattia l'abbiamo capita, ma ce lo vogliamo chiedere, da dove è nato tutto questo? Io sintetizzo con un'espressione, dobbiamo capire che questo esattamente è il risultato della mala politica che per oltre trent'anni si è sviluppato nel nostro paese, nella nostra città. E noi, noi sinistra, perché stiamo qua? Perché stiamo qua? Perché stiamo ragionando con i cittadini? Perché guardate, noi abbiamo un'idea della politica che è tesa e finalizzata a cambiare la realtà. A noi questa idea della politica, che possa, cioè la politica che è una cosa bella, una cosa importante, le persone si mettono insieme, si organizzano per fare cosa? Avete sentito dagli altri compagni come purtroppo altri soggetti, altre formazioni politiche, vivono la politica. la politica, la politica per gli interessi personali, la politica per difendere i poteri forzi, sia quelli, diciamo così, normali, legittimi, e sia quelli che sono poteri criminali, i poteri delle camorte. Bene, noi sinistra intendiamo la politica come un'occasione per cambiare la realtà. E stiamo dicendo ai cittadini, se è vero che ciascuno di noi, ciascuno di voi, si lamenta, si arrabbia, giorno per giorno, per tutto ciò che non c'è in questa città, vogliamo tentare di capire come attraverso la politica possiamo cambiare questa realtà, ebbene, noi anche attraverso queste elezioni abbiamo posto un problema. Abbiamo detto, guardate, noi dobbiamo mettere in campo tutte le intelligenze, tutte le risorse fondamentali di questa città, le risorse umane, le informazioni sociali, le persone oneste. Perché? Perché vogliamo che insieme le forze minzioni di questa città possano ragionare e ricostruire una nuova idea di città, una nuova idea di città che, lo ripeto, finalmente dia le risposte che non sono mai venute, dia le risposte di vivibilità che non ci sono state, che non ci sono. E guardate, io credo che in questo momento storico Casoria stia attraversando una fase estremamente delicata e anche molto importante. Perché? È stato già detto da qualche compagno che mi ha prima preceduto. A Casoria esiste una realtà importante, le famose aree industriali dismesse, 640.000 metri quadri, quasi al centro della città sostanzialmente, che con una politica accorta, intelligente, con una politica libera dagli interessi dei forti, dei palazzinari, di quelli che hanno fatto la speculazione d'inizia nei decenni precedenti. Ma una politica politica, una politica pulita, la buona politica, queste aree potrebbero diventare un'occasione importantissima per dare alla città delle occasioni di diventare un'altra cosa. Pensiamo, per esempio, a questi 640.000 metri quadri, come potrebbero essere utilizzati perché, per esempio, si abbia un parco urbano, aree di verde attrezzato, ma al tempo stesso possibilità perché queste aree siano utilizzate dalle università napoletane per creare centri di studi, di formazioni, di ricerca, ma al tempo stesso creare con intelligenza un volo produttivo ad alta tecnologia, a basso impatto ambientale che possa dare risposta ai tanti giovani, ai tanti lavoratori, ai tanti disoccupati. Io qui voglio cogliere l'occasione per sottolineare una cosa importantissima che è data a Casoria negli ultimi due o tre anni, quando un gruppo di lavoratori disoccupati hanno scelto di fare una strada importante, unirsi, organizzarsi, cominciare a capire che è importante per loro fare in modo che non soltanto andare via dalle logiche di chiedere il favore a questo o a quel politico, ma capire che mettendosi insieme e avanzando delle idee e delle proposte... Martina, chiedo scusa, c'è una ragazzina, Martina, che il signore mi dice che ha perduto. Ma io stavo a trovare! Il signore l'ha trovata? No, no! Martina, c'è una bambina... Com'è vestita questa bambina? L'avete trovato? Meno male, meno male, meno male, meno male. Grazie, bravi, 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 bravi. No, 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 chiaramente, chiaramente... Allora, se possiamo riprendere il ragionamento, voglio dire quindi che è estremamente importante il fatto che cioè dei lavoratori abbiano fatto questa scelta di unirsi, organizzarsi, stare insieme, avanzare proposte e guardate, questa è una delle tante cose importanti che sta nascendo oggi a Casoria perché io sono convinto che questi cittadini, questi lavoratori sapranno che le loro lotte non soltanto avanzare le giuste richieste per rivendicare il posto di lavoro ma sapranno anche avere la possibilità di entrare nel merito della richiesta non di un lavoro qualsiasi ma di un lavoro buono, di un lavoro cioè che possa essere d'aiuto a tutta quanta la collettività perché tutta la collettività possa crescere. E allora dicevo, le aree dismesse, una grande occasione per una nuova Casoria e poi guardate, un altro aspetto importante della nostra città, io penso al centro antico, il vecchio centro di Casoria in condizioni di grande degrado addirittura in condizione di pericolosità non passano mesi se non ci sono problemi anche addirittura cronzi che vi sono stati e allora un'operazione di risalamento urbanistico nel vecchio centro consentirà non soltanto di dare civiltà o condizioni di vivibilità a tanta gente ma avrà anche questa altra opportunità mettere in campo tantissime occasioni di lavoro non soltanto nell'edilizia ma anche in tutta una serie di comparti artigianali che sono collegati con l'edilizia. Allora queste due cose fondamentali cominciano a mio parere già a far intravedere quali sono i percorsi che la sinistra vuole seguire per dare risposte a questa nostra città una città che io voglio dire una città policentrica una città che ha il centro degradato ma ha tante periferie anche queste purtroppo senza i servizi sociali fondamentali addirittura una periferia come quella di Arbine in modo particolare ma anche altre che non hanno alcun collegamento interno e quindi c'è bisogno anche da questo punto di vista di una forte innovazione perché ci sia una mobilità interna quindi voglio dire noi la sinistra sta facendo in questa campagna elettorale una battaglia non soltanto per dire votate noi perché siamo belli perché siamo bravi ma sta facendo una battaglia che è culturale che è politica che è di grande prospettiva perché? perché naturalmente soltanto se si faranno queste cose sarà possibile risolvere la malattia di cui parlavo prima c'è però un problema guardate in queste settimane di campagna elettorale nelle pochissime occasioni di confronto che noi abbiamo potuto avere con le altre forze politiche con gli altri candidati a sindaco bene io devo dire che ho riscontrato primo pochezza di idee io non ho avuto la possibilità di confrontarmi e di scontrarmi se volete con altri candidati a sindaco che avanzassero idee diverse opposte alle mie ho soltanto dovuto registrare nella quasi totalità assenza di proposte tranne tranne il riferimento episodico a un fatto ma i cittadini vanno in cerca di una buona politica del quotidiano di marciapiedi che siano in buone condizioni le strade asfaltate quindi la politica amministrativa di una città come Casoria dovrebbe essere concentrata sulla attività quotidiana guardate io a queste osservazioni ho detto questa cosa vorrei confrontarvi con voi anche su questo tema ho detto questa cosa guardate è evidente che un'amministrazione che sappia fare bene il proprio dovere deve guardare anche alla politica del quotidiano le piccole cose anche le piccole cose sono importanti il punto però qual'è il punto qual'è vorrei capire ma le piccole cose come si fanno a farle nel modo migliore se ad esempio c'è lo spreco del danaro pubblico se ad esempio nella politica della spesa corrente cioè la spesa quotidiana che l'ente locale fa per le piccole cose riscontriamo clientelismo riscontriamo va bene facciamo fare questo lavoro alla ditta mica non c'è rispetto della legalità oppure vogliamo pensare a qualche altra cosa che a mio parere può rientrare del discorso del quotidiano c'è un circolo didattico a Casoria il primo circolo che da tre anni è bloccato è chiuso le classi centinaia e centinaia di bambini che sono costretti a stare in giro per altri posti della città l'amministrazione comunale da due anni e mezzo non fa nulla per risolvere questo problema allora vorrei capire ma il quotidiano quale quotidiano oppure altra cosa la politica del dare soldi ai consulenti si è detto prima da parte di Vincenzo ad esempio la macchina comunale la macchina comunale è importante perché un comune possa funzionare bene diceva Vincenzo giustamente vi sono all'interno della macchina comunale delle risorse umane qualificate importanti ma ove si volesse qualificarle ulteriormente queste risorse lo Stato la legge mette a disposizione dei comuni la possibilità per i dipendenti comunali di qualificarsi bene a Casoria per la verità come in tanti altri comuni italiani che cosa si sta facendo da anni che invece di qualificare i servizi del comune invece di utilizzare al meglio i lavoratori indipendenti comunali si preferisce anche qui per scelta clientelare chiamare esterni li chiamano consulenti molto spesso non hanno neppure le qualifiche necessarie a Casoria siamo arrivati nell'ultimo anno a oltre 800 mila euro solo di consulenti allora voglio dire ma per le altre forze politiche perché gli altri candidati a sindaco sfuggono al confronto perché guardate io sono personalmente arrivato a questa conclusione a Casoria in questo momento si stanno scontrando in maniera molto forte tre sistemi di potere e si stanno scontrando guardate bene questo lo dico con grande preoccupazione non alla luce del sole non confrontandosi su progetti chiari che il cittadino possa comprendere ma si stanno scontrando questi tre sistemi di potere sostanzialmente io penso per spartirsi l'oggetto del desiderio che sono le 640.000 640.000 metri quadri delle aree di stessa perché è lì che si gioca la partita del futuro di questa città e se ancora una volta avranno la meglio le forze politiche che sono legate espressione dei palazzinari di ieri e di oggi noi avremo altre colate di cemento se invece i cittadini comprenderanno questa cosa e daranno forza alla sinistra bene si aprirà un'altra strada un'altra ipotesi per una città nuova ma a questo punto i cittadini vi potreste chiedere ma scusa questi tre sistemi di potere ma quali sono? a mio parere ce ne sono due della destra guardate a che storia noi stiamo andando alle elezioni con una situazione molto strana ci sono due candidati dello stesso partito del PDL Ferrara distinta cosciente Iodice l'altro candidato tutti e due del PDL tutti e due della stessa giunta fino a due mesi fa facevano parte della stessa amministrazione bene questi due personaggi sono due persone di Casoria e basta perché perché Ferrara è sponsorizzato e ha alle sue spalle Cosentino e tutti quanti credo che sappiano chi è Cosentino no? dall'altra parte Dall'altra parte Iodice è sponsorizzato da Nespoli sindaco vi attrago la senatore che non sta in galera semplicemente perché il senato non gli ha dato non gli ha dato l'autorizzazione a procedere e si stanno scontrando bene io vorrei chiedervi e guardate i cittadini se lo devono chiedere ma come mai due persone dello stesso partito due persone della stessa amministrazione staccano a metà un partito a Casoria e a Napoli e si presentano divisi alle elezioni a Casoria perché la torta l'oggetto del desiderio il punto grazie allora è questo e i cittadini di Casoria questa cosa la devono capire i fini di conto si stanno scontrando sulla loro pelle si stanno scontrando cioè su come dividersi la torta al meglio e come le forze economiche le forze criminali le forze del maleffare la mala politica ancora in più possono avere altri anni come le forze le forze